Ed entriamo ora nel mondo della danza. Questa sera alcuni ragazzi di Vaccarizzo hanno voluto creare delle coreografie su diversi stili di danza sotto la visione di Ida Parisano e Fabiola Folino, su musiche varie. Il titolo di queste coreografie è Il sogno si fa danza. Questi giovani ragazzi studiano danza sin da piccoli, con impegno, costanza e passione. Per raggiungere ottimi risultati li avremo visti esibire sicuramente in diverse altre manifestazioni qui in paese. Con la loro esibizione vogliono trasmettere il vero valore e significato della danza. Accogliamo così questa sera su questo meraviglioso palco, con un caloroso applauso, Francesco Perri, Giorgia Pada ed Evelyn Marasco. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti